... ... ... ... ... Oh, io vado piano, ah! E' bella mia! E' dio, se mi sento sicuro con la tenuta, la lascio andare di più. Però, sulle dietro, devo prendere sicurezza. Dobbiamo fare 30 anni, ma... Inizia nuova. Questa qua? Dov'è la potenza? Questa? Da lì, da lì, da lì, da lì. Dov'è la potenza? Grazie a tutti. 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 Forse una delle più belle esperienze in bici che abbia mai fatto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.